Sono la coppia dell'estate calcistica. Leonardo, 40 anni da compiere il 5 settembre, brasiliano, allenatore del Milan, e Anna Billò, 32 anni, giornalista di Sky. Insieme hanno fatto la loro prima uscita ufficiale a Venezia. Separato dalla moglie e padre di due figli che sono ritornati a vivere in Brasile, il tecnico rossonero ha conosciuto la giornalista per motivi di lavoro. Lei ha fatto spesso la cronista a bordo campo durante le telecronache Sky. Fra i due è nato un grande amore e gli amici confermano che Leonardo e Anna siano diventati inseparabili. Lui sta cercando di raddrizzare il disastroso precampionato del Milan in vista di un campionato particolarmente difficile. La squadra ha incassato sei sconfitte di FIA durante la preparazione. Lei continua a lavorare per Sky dove riscuota un alto gradimento fra i telespettatori per la sua competenza e per la sua professionalità, oltre che per le evidenti doti estetiche. Grazie per la visione!